...va a cercare Zazzo, Chiellini, poi Eder, punto all'avversario Eder... Sì, però questo deve essere comunque un risultato per farci riflettere negli errori che abbiamo fatto, soprattutto in centrocampo, che parolo quasi assente, dei russi bene solamente nella parte difensiva. L'attacco, ovviamente, solamente Eder si è visto oggi, quasi assente, diciamo. Ragazzi, siete stati davvero degli ottimi opinionisti, avete fatto un commento tecnico davvero d'applausi. Ora però vi chiedo un'ultimissima cortesia, visto che siamo dietro alla porta, siamo qui al Campogoni. Vogliamo far vedere ai nostri telespettatori, cerchiamo di fare il replay del gol di Eder, visto da voi, ovviamente. Siamo già qualificati agli ottavi, ora è arrivato già il tempo dei pronostici su chi affronteremo agli ottavi. Questo non lo so. Direi una bugia grossissima se sapessi già chi incontreremo. Non lo so chi incontreremo. Lei ha qualche speranza? Ma se giochiamo come oggi, mi dispiace dirlo, ma non la vedo un'Italia ben orchestrata. Le belle ragazze si spogliano, fanno lo strip. Se l'Italia vincerà la manifestazione... Non sto all'altezza di fare lo strip perché... Delle curve? No, 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 c'ho molte curve, anzi, qualche curve in più. Massimo quello che posso fare, massimo, posso imbandierare tutto il castello tricolore. Io vedo tante maglie azzurre, anche se siamo sul campo da basket. Allora, l'Italia vince contro la Svezia. Una vittoria sofferta, ma importantissima. Sì, all'ultimo minuto, però comunque sempre questo gol vale molto. Quindi la vittoria, ormai siamo qualificati per i gironi, questo è l'importante. Come già detto, siamo appunto qualificati per i gironi e vedremo più là chi ci toccherà affrontare le gironi, le eliminazioni, che comunque sono difficili. Ci sono molte possibilità che la nazionale possa arrivare in alto. Non vincere gli europei, ma almeno quarti, semifinali, vabbè. E ora agli ottavi chi speri che l'Italia possa affrontare? Gli ottavi? Eh, ci sono parecchie possibilità. Cioè, io penso Croazia.